non so perché le azioni sono le stesse oh attenzione arriva lui arriva ragazzi arriva lui e spacca tutto il personaggio a 4k i capelli sono neanche un k che male il vantaggio il tiro a giro per far come se non funziona è male che schifo in corpo dentro l'allenatore ma Gianni ma come fa a fare gol se guarda per terra si infatti è uno schifo non ho messo sta stronzata prima persona segnalare le persone perchè non fanno nulla puoi segnalare solo per il non offensivo e che amanti si è proprio bello questo vabbè è messo per lo stile del gioco plus questo vero metto in best off mamma mia un tiro non c'è il portiere non c'è il portiere vabbè io so che è bellissimo non c'è il portiere che è il portiere si è un portiere è un portiere gli aiuto è un portiere gli aiuto aiuto e infatti pure io attraverso di testa questo bel questo bel questo bel è sto cazzo porcelino fatto in uguale devo ringraziare la falla sono arrivati no ma adesso 1